Era indubbiamente uno dei giorni più attesi dell'intero processo sulla cracca di Banca Etruria, quello della requisitoria delle richieste della Procura, che ha chiesto le condanne per tutti gli imputati. Il reato contestato è quello di bancarotta, da quella fraudolenta a quella semplice per alcuni degli imputati. Dei 24 chiamati in causa, l'intero CDA ed alcuni dirigenti della banca, nessuno è scampato alla richiesta di condanna, anche se ben diverse, a seconda dei casi, sono state le conclusioni dei pubblici ministeri Angela Masiello e Giulia Maggiore. La pena massima è stata chiesta per Alberto Rigotti, sei anni e sei mesi. Cinque anni e quattro mesi invece la richiesta di pena ai danni di Giorgio Guerrini, a pesare probabilmente in questo caso la vicenda dello yacht di Civitavecchia. Come commenta questa richiesta della Procura? Stessa richiesta anche per Federico Baiocchi de Silvestri. Quattro anni di condanna invece sono stati chiesti per Augusto Federici in relazione alla vicenda Sacci e per Giovanni Inghirami, già vicepresidente vicario di Banca Etruria. Tre anni e mezzo poi la richiesta di pena per Lorenzo Rosi, ultimo presidente di Via Calamandrei prima del commissariamento. Un anno infine per Laura Del Tongo, Andrea Orlandi e Ugo Borgheresi. Sono richieste fisiologiche nell'ambito di un processo di questo tipo, la Procura ha mantenuto la propria linea, la propria impostazione accusatoria, nulla di inaspettato. Si tornerà in aula venerdì 14 maggio, sarà il turno delle parti civili, prima che la parola passi al ring degli avvocati dei vari imputati, poi la sentenza. Si preme quindi far rilevare l'impatto sociale che c'è stato e quindi in realtà la loro sofferenza a seguito di proprio queste operazioni che sono state praticamente poi sanzionate dalla Procura con questa richiesta di condanne anche abbastanza consistente. Abbiamo chiesto ovviamente riconoscersi alla responsabilità penale di tutti gli imputati, il risarcimento del danno patrimoniale e morale subito da queste persone e soprattutto abbiamo chiesto una provvisionali pari al 5% del costo di acquisto delle obbligazioni subordinate in assonanza a quanto statuito dalla recentissima sentenza circa al crack della Banca Popolare di Vicenza e pari al 70% per il costo di acquisto del valore delle azioni. Questo perché mentre i subordinate hanno ricevuto un indennizio del 95% gli azionisti hanno ricevuto un indennizio soltanto del 30% il che vuol dire che sono scoperti rispettivamente per il 5% e per il 70%. Grazie.